Oh, oh, oh! Ago! Eh? Senti qua. Nel mondo un terzo del cibo viene buttato via. Si calcola che ogni secondo 51 tonnellate di alimenti finiscono nella spazzatura o direttamente al macero. Ok? Oh, a proposito di cibo, ma che abbiamo deciso di fare dieta oggi? C'ho una fame. Forse non hai capito. 51 tonnellate al secondo? Non è possibile. Invece purtroppo sì. Se c'è scaricata la batteria, ma non dura niente. Domani me ne compro una nuova. Dicevi? Che sei una bestia. Eh sì, Ugo, ho capito che palle sempre con questa mania di salvare il mondo. Come se potessimo farci qualcosa. Ma guarda che è proprio questo il punto. Ognuno di noi può fare qualcosa. Basta metterci un po' di impegni e attenzione. Senti, io di impegni ne ho già troppi, eh? Ho un lavoro stressante, ho un mutuo da pagare, una famiglia da mantenere. Ma proprio perché hai una famiglia non pensi al futuro dei tuoi figli? Eh, calla. E fattela una risata ogni tanto. Siamo andati avanti per millenni? O proprio adesso deve finire il mondo? Il mondo no. La razza umana temo che prima o poi... Però più poi che prima se ci comportiamo responsabilmente. Magari riusciamo a prolungare la nostra presenza di qualche secolo o millennio. Dì la verità. Tu che ci fai col cibo che ti avanza? Che ci faccio? Che ci fai? Io lo... Lo... Lo butti? Lo butto? Lo butti? Lo butto, lo butto. E la spesa? Scommetto che sia uno di quelli che fanno la spesa grosso una volta al mese. Quattro carrelli pieni, mezz'ora per scaricarli alla cassa, un'altra mezz'ora per portarli in macchina con venti buste. Senza contare la vecchietta che ti chiede di passare avanti perché ha soltanto due cose. Ecco. Dovresti fare come lei piuttosto. Compra poco e spesso. E compra anche i prodotti che stanno per scadere. Vedrai come ti conviene. Cioè, fammi capire. Tu mi stai dicendo che salvare dalla spazzatura un pomodoro al giorno conviene di più che fare una maxi scorta una volta al mese. Esattamente. Certo. Non ho capito. Facciamo così. Fai una prova qualche settimana e verifica tu stesso. Ok, ci sto. Un fondo che ci vuole. Che c'è? Aspetta un attimo. Ma che patto è? Tu che ci guadagni? La stessa cosa che ci guadagni tu? Salvare il mondo. È proprio buono questo sughetto. Ma cosa l'hai fatto? Con le melanzane che rischiavano ad essere buttate. Sai che ti dico? È proprio la fine del mondo. È proprio la fine del mondo.